ci furono delle manipolazioni pazzesche viva la Repubblica ma ci furono delle manipolazioni ci fu una truffa pazzesca viva la Repubblica italiana ma ci fu una truffa pazzesca ci fu una truffa pazzesca grazie a questa Repubblica grazie a questa Repubblica noi oggi possiamo festeggiare allegramente la Zanzara un programma orribile che se i padri costituenti che se i padri costituenti avessero immaginato di Lottale per la Libertà per arrivare poi ad avere una trasmissione dove si parla di Vagina Cava esattamente secondo me avrebbero preso i fucili e li avrebbero consegnati ai tedeschi se i partigiani avessero saputo ho in braccio la bambina chiedo scusa perché oggi è una giornata di festa e ho dato giornata libera alle persone che collaborano alla mia vita domestica pagala una in più ho dato giornata libera perché è il 2 giugno alle maestranze alle maestranze mi do in braccio la mia piccola alle 2-3 maestranze grazie ti dai il ciuccio grazie ecco dai il ciuccio così non rompe i coglioni dai il ciuccio così non rompe il cazzo questa qua amore è una trasmissione orribile che però ci consente di mangiare sai tesoro mio no 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 da tanti anni questa trasmissione ci consente di fare di mangiare ci consente di andare in vacanza ma perché la devi disturbare stava zitta ammuto non ci riesci a andare in una botta a testa no allora ti spiego il gruppo sole 24 ore è un gruppo molto importante che grazie no amore no arrabbiato col sole no dilli barisoni fagli barisoni allora aspetta un attimo dilli barisoni vuoi che chiamiamo urbano cairo amore si no come no no ha detto di no 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 come no al nome urbano cairo sbroccato no 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 chiamiamo barisoni allora vuoi barisoni amore no barisoni no no tesoro beh però con barisoni si è accomodata si è calmato con barisoni si è accomodata vedi vuoi focus economia amore allora nelle parole di Michele Santoro nelle parole di Michele Santoro ho la paura di rischiare la catastrofe vai fermi tutti grazie Cacciari c'è credo abbia chiamato Luigi che credo che sia Luigi Costabile quello dell'altra sera Luigi che vuoi lui dimmi buonasera anzi dottore ma beh dai dimmi che c'è che vuoi dire fammi salutare prima gli uomini dottor Parenza buonasera questo è sempre l'assassino Parenza è sempre il criminale dell'altro giorno buonasera e grazie per aver chiamato grazie grazie dottor Parenza lei è il classico esempio di un paese in cui la pena funziona no dico lei è il classico esempio in cui lei è la pena funziona ma che la pena funziona questa ha ammazzato un sacco di gente sta a piede libero che funziona non funziona un cazzo qua dottor dottor Parenza ma io non ho pagato ma io non ho pagato i reati ha pagato piange 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 perché non c'è stato di diritto in questo paese è dispiaciuta perché non c'è lo stato di diritto ma questo qua ha commesso ha commesso omicidi ed è a piede libero è a piede libero dottor Parenza io non ho pagato io ho fatto il carcere quando ero carcere adesso il carcere per me è una pensione a tre stelle ma non è una pensione a tre stelle è il carcere io quando ho fatto il carcere non c'era televisione non c'erano giornali sarebbe il 41 bispo di oggi scusami Luigi tu l'altro giorno hai detto che ci sono delle persone in carcere che mi vorrebbero sparare alle gambe mi vorrebbero sparare alle gambe mi vorrebbero sta pensando a questo sono gente che non usciranno ma ho capito ma una non si deve preoccupare se fino all'esame di maturità porca la gara puttana indossala davanti agli studenti no comunque ti volevo dire questo abbiamo aperto la trasmissione con mia figlia piccola in braccio che piangeva che no gemeva per quello che ha sentito l'ho spostata nell'altra stanza e le ho fatto le sto facendo vedere la maratona di mentana sui temi si è placata allora ancora una volta io voglio dire grazie voglio dire grazie alla sette perché fa servizio pubblico esatto perché grazie alla maratona di mentana mia figlia si è placata non temo che tra un po' appena finirà la maratona tornerà qui e sentendo queste porcate che qui vengono dette tornerà a piangere vabbè vediamo se si mette paura di fronte a un ospite che sicuramente non è non è poi lo vedrai poi lo vedrai poi lo chiamo poi lo chiamo sta bevendo l'aperitivo allora volevo chiudere c'è uno solo che beve sempre aperitivi domanda è un giornalista è stato direttore di un giornale anche famoso beve aperitivi è stato direttore di un giornale non è ancora il momento non è ancora il momento allora poi vediamo e poi sai il telefono fa sempre brutti scherzi eravamo con il solito Luigi il plurio omicida napoletano che mi ha minacciato l'altro giorno anzi mi ha minacciato ragazzi fatemi il telefono di Vittorio Fettri che starà prendendo l'aperitivo vai Vittorio eccomi come andiamo? sono vivo beh stupendo un trionfo meno male meno male purtroppo è vivo anche a Barenzo e questo 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 sì però va bene si può andare avanti anche con Barenzo vivo c'è il mondo può andare avanti sì ma per l'amor di Dio assolutamente senti fino a poco tempo fa Barenzo aveva in mano in mano la figlia no è qua è qua uno senti 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 non ho capito senti questa è la figlia di Barenzo cioè Barenzo ha in braccio la bambina ha in braccio la bambina piccola cioè sta facendo il babysitter ti rendi conto o no alla sua età è a quest'ora piange perché sente feltri piange perché sente le cose no 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 non ti preoccupare non ti preoccupare non ce l'ha la cameriera di colore non ti preoccupare amore no no poi no i bambini sai che non li mangio perché non mi piacciono però non ti piacciono i bambini a te in generale no no i bambini mi rompono i coglioni sì vai ma cosa si fa a dire una cosa cioè uno a 40 anni a 40 anni 43 anni quanti ce ne ha Parenzo 46 46 può stare con un bambino in mano con un bambino di due anni in mano alla sera ti rendi conto no però la cosa non mi stupisce diciamo che mi fa ridere però finisce lì insomma no ma insomma ai bambini ai bambini si vuole anche bene anche se ti sta metto un cazzo però ti vuoi bene come anche cioè come ti come anche come te lo immagini tu un figlio di Parenzo un figlio una figlia di Parenzo come te lo immagini no no non me lo immagino mi auguro che non sia come papà questo 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 anch'io questo ve lo auguro anch'io sinceramente questo anch'io scusami Vittorio ma questa guerra non ci ha un po' rotto il cazzo tu l'altro giorno hai scritto sei stato molto criticato mi hanno chiesto se faccio il tifo per la Russia e l'Ucraina ma non sono né russo né ucraino quindi sono neutrale no vinca il più forte ma faccia in fretta perché siamo stanchi e questo sì mi sembra un ammetto così peregrino eh sì io non sono né russo non è ucraino sì non faccio il tifo per nessuno però se la guerra finisce non smettono anche di rompermi i coglioni cioè tu dici ma cosa c'è ma gli ucraini dovrebbero dire una cosa simile che sono sotto le bombe non tu che sei nel salotto di casa se mi chiedi io dico quel cazzo che voglio hai capito? ma io dico ma come si fa a dire una cosa così cinica dal salotto di casa con l'aria condizionata a mille io sono talmente cinico che se potessi sparare lo farei con grande sollievo beh col fatto con l'assicurazione che uno non vada in prigione uno dice sì però scusami scusami Vittorio però tu dici noi siamo stanchi no? tu hai detto questo noi chi? noi coglioni anche perché tutti i giorni ci sono dei talk show che sono incredibili c'è uno che dice delle miscarate per cui figurati tu sennò ne ho piena le balle di questa guerra ma come fa a dire ne ho piena le balle uno che guadagna 30.000 euro al mese per scrivere le cose che dice ma che roba è? no guarda tu sei veramente fesso perché io guadagno molto di più di 30.000 euro al mese che cazzo dici ti sova? l'hai insultato gli hai detto 30.000 euro al mese e quello giustamente si incazza che lo prendi come un poveraccio che lo prendi come un poveraccio scusami ah perché sono pochi 30.000 al mese eh come il cameriero lo prendono come camerieri perché 30.000 al mese sono pochi ma dov'è adesso? cos'è sto rumore che c'è sotto? dov'è? ma sta prendendo la peritiva dove cazzo voglio testa di minchia scusami nell'ultimo mese tu hai scritto crepa più gente sulle autostrade italiane che Ucraina Odessa crepa più gente sulle autostrade italiane che Ucraina Odessa che roba mamma mia che paragone squallido che squallore ragazzi che squallore ma perché che squallore? poi la parola crepa la parola crepa ho capito ma crepa crepa perché crepare non sai cosa vuol dire d'accordo? ma certo morire ma è brutto con l'italiano confliggi è brutto lo dici tu è un'espressione orribile orribile di sinistra che fa la guerra al dizionario capisci tu sei proprio il più stolido sei il più stolido praticante dei luoghi comuni del politicamente corrotto come sei tu d'altra parte ma mi spiegate ma perché dobbiamo bisogna intervistare un signore che sta prendendosi un aperitivo sta bevendo litri di alcol a un bar sul tema della guerra ma a me mi sembra una roba incredibile ma veramente l'abbiamo chiamato noi però cioè non è che l'ho chiamato questo quanto è scemo ma avete telefonato voi che cazzo volete se non mi volete sentire ma io ma per sentire cosa no quello è vero ma cosa ma uno che guadagna 40.000 euro al mese gli dobbiamo pure pagare per sentire queste sciocchezze secondo te ma comunque basta che non mi chiamiate che a me per cazzo me la frega di parlare con te a me io abbia un'erezione per parlare con te no le erezioni ormai sono superate diciamo la verità è un periodo in cui le erezioni sono superate questo è vero scusa ecco la bambina di nuovo di nuovo la bambina però Parenzo voleva dirti qualcosa incredibile no a me la bambina mi ha già rotto i coglioni sì anche a me infatti mi ha rotto i coglioni sta bambina ma butta giù sta bambina posala dai c'è la radio ma tu vai a lavorare con la bambina pistola sì sì mica sono un miliardario come te che ha 5 colf così oggi 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 è il 2 giugno lavoro da casa lavoro da casa e quindi ho lasciato la collaboratrice che è con noi in vacanza una roba da pazzo ci sembra una giustificazione normale è la giustificazione di uno straccione sì esatto bravo non ha manco i soldi da dare a una extra per fare la giornata con i bambini pagala pagala va bene che sei ebreo e quindi sappiamo che un po' che un po' che un po' difficoltà difficoltà pagata diciamo stupidà scusa voglio chiederti un'altra cosa Vittorio che è questa ma oggi è la festa della Repubblica immagino che a te non te ne ha fotto un cazzo dalla festa della Repubblica zero 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 cioè è gravissimo è gravissimo però un ex direttore di giornale gravissimo la festa della Repubblica cioè la festa della Repubblica mi interessa meno di Parenzo ah il fatto che si festeggi la nascita della Repubblica italiana e che ti dà il diritto di dire le cazzate che dici non ti interessa questa grande democrazia che ti interessa niente non mi ha fotto un cazzo cosa mi ha freddo la Repubblica se fosse la monarchia come in Inghilterra non mi darebbe alcun fastidio anzi forse me lo darebbe ma non crede in nulla ma non crede in nulla Feltri non crede nella democrazia nella Repubblica non gliene frega niente di niente no no non è vero che non credo in nulla credo che tu sia un pirla non crede manco nell'Italia non ha mai creduto manco nell'Italia Vittorio ma che cazzo me lo frega a me di queste mischerate di questa retorica veramente frusta esatto non frusta io sto prendendo un aperitivo in Brera con la mia amica Melania Rizzoli che cazzo vuoi che mi ha fotto a me di parezzo non fai niente mai niente ma andate a fare il culo con l'ombrello aperto però non rinunciare alle tentazioni non rinunciare non rinunciare non rinunciare non rinunciare non rinunciare non rinunciare